Oggi con me a Rendrit c'è Matteo Ferrari, lead 3D artist a Archi9 in London, vicino, almost London, non proprio Londra, vicino, siamo a 40 minuti da Londra. Ok, in Inghilterra, in Inghilterra, in Inghilterra, quello possiamo dirlo. Questo è certo. Beh, intanto grazie. Grazie a te, grazie a te, bellissima iniziativa, bellissimo sito, bellissimo blog, ragazzi seguitela perché ne vale la pena. Non mi ha pagato, non mi ha pagato. Dopo, dopo, ne parliamo dopo. Grazie mille Matteo, troppo gentile. Allora, la domanda di Rito è se vuoi un po' introdurti e introdurre soprattutto come sei arrivato all'Archviz e come sei arrivato anche ad Archi9 perché insomma penso sia una delle milestone di questo lavoro, di questa industria. Ma ben volentieri. Allora, long story short, ho iniziato a studiare Restauro a Genova nel 2008, 9, una cosa del genere, non mi ricordo le date, sono pessimo. Poi, dopo un paio d'anni, sono passato ad Architettura perché in realtà mi piaceva e ero veramente lanciato su voglio fare l'architetto, da morire, voglio serio diventare architetto e mark my words, diventerò architetto. Così non è stato. Ci sono andato vicino, sono diventato effettivamente architetto, ho scoperto che lavorare come architetto non è così entusiasmante come sembra durante l'università e quindi dopo la laurea ho subito, mi sono subito buttato nel lavoro, ho iniziato a lavoricchiare un po' di qui e un po' di lì. Non ho lavorato tantissimo a dirla tutta, però un po' ho fatto. Ho fatto l'esame di Stato, sono diventato architetto e poi mi sono reso conto che in realtà la cosa che mi piaceva, che durante l'università facevo sempre, che era la parte più divertente, era fare immagini. E poi proprio sinceramente mi mancava fare immagini perché facevo tantissimi, tutti lo sapranno, tutti quelli che sono passati dall'architettura lo sapranno meglio di me, facevo tantissimo AutoCAD, facevo tantissime piante, tantissime sezioni, tantissime forniture spostate, il blocco di fornitura, il blocco ecco, il blocco di fornitura spostato, che me lo ricordo come un incubus, ci penso. E mi sono reso conto che decisamente non faceva per me. Subito dopo essermi reso conto che questo non funzionava, mi sono iscritto a una delle masterclass di State of Art. Direi la masterclass, ora hanno nomi diversi, però se mi ricordo bene è la masterclass di quella di un mese, più o meno di un mese. Mi sono trasferito là, ho fatto un mese là, bellissimo, bellissima esperienza raccomandata a chi vuole iniziare o a chi ha un po' di basi ma vuole approfondire il mondo del lavoro, veramente consigliata. Durante il mese ho avuto tipo un'esplosione di emozioni, ero così felice che, non lo so, se ci penso adesso, praticamente facevo le otto ore, nove ore di corso, finivo le otto ore, nove ore di corso, andavo a casa e ci stavo di nuovo altre, tra le quattro e le sei ore di nuovo, a farmi immagini, modelli, un sacco di roba, ma veramente un sacco. E in un mese di, veramente un mese di full immersion ho avuto un boom di conoscenze, mica male. Anche perché prima di iniziare la masterclass, ok, che sapevo un po' di 3D, ok, che conoscevo Max e la sua, come si chiama, interfaccia, ma dire che riusciva a fare un'immagine bella dall'inizio alla fine, no, decisamente no, ma decisamente no. Quindi dopo il mese ho voluto subito buttarmi alla ricerca di un posto di lavoro, comunque sia di provare un po' a vedere se effettivamente si poteva trovare un posto di lavoro, abituato alle fatiche dell'architetto e mia, la mia attuale moglie era in Inghilterra già, lei è infermiera pediatrica, quindi si era spostata tipo un anno prima di me e ho detto vabbè, che posto migliore se non l'Inghilterra, visto che ci sono un fantastiglione di aziende. Vabbè, finita la masterclass, due giorni dopo avevo il volo per l'Inghilterra, quindi ho preso... Non hai perso tempo. Non ho decisamente perso tempo, cioè io ho finito la masterclass tipo il 26, 27 e il 30 io mi ricordo di essere già all'attivo in Inghilterra, quindi probabilmente ero già lì da un paio di giorni, una cosa del genere, quindi vabbè, è stata proprio toccata e fuga. Volo di solandata, trasferito in Inghilterra e mi sono reso conto di zero esperienza. Cosa faccio? Panico, cioè panico, non avevo neanche un portfoglio che si potesse definire un portfoglio. Va bene, mi sono preso un mese e ho detto vabbè, io mi dedico un mese a creare immagini e basta, a crearmi il mio portfoglio. Curriculum, chiamarlo curriculum anche lì è una parolona perché c'avevo qualche esperienza. Ma nel mondo del 3D ti assicuro praticamente niente. Va bene, ho iniziato a fare immagini. Per un mese io non ho visto anima viva, cioè facevo degli orari improbabili, cioè mi svegliavo prestissimo, finivo tardissimo. Con questo, tra l'altro con questo laptop che è ancora con me, ma se non mi ha abbandonato quel mese lì, probabilmente non lo farà mai perché renderizzavo tutte le notti, caldo, porca, era agosto, caldissimo, una roba del genere. Quindi mi sono preso un mese, dopo che avevo 7-8 immagini, ho detto va bene, sono contento, soddisfatto di queste 8 immagini che puoi ripensarci adesso. Tanto soddisfatto, forse non dovevo ritenermi. Ho giusto ripescato il mio portfoglio non tanto tempo fa e migliora, decisamente migliorabile. Vabbè, è un percorso. Sì, 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 no, ma è decisamente un percorso. Soddisfattissimo, va bene, ho iniziato a cercare e subito un po' ci stavo rimanendo male perché per circa dieci giorni non ho avuto riscontri, dieci giorni, due settimane. E quindi iniziavo a dire, oh cielo, cosa ho sbagliato, devo rifare le immagini, eccetera, eccetera. Poi all'improvviso uno studio di Londra, Minmood, mi ha chiamato, mi ha detto, sareste interessato a fare un po' di freelance per noi. Sì, perfetto, benissimo, il giorno dopo ero già lì in studio, zero esperienza, mai lavorato con Corona, loro lavoravano con Corona. Ottimo. Ottimo inizio. Però avevi tre, quattro ragazzi super gentili, mi hanno iniziato un po' a spiegare le basi, eccetera, eccetera. Proprio, io facevo, diciamo, lavoro più di 3D o post-produzione. Post-produzione ero un po' più ferrato, 3D, me, non tantissimo. Quindi io aiutavo, fondamentalmente ero proprio un junior, quindi aiutavo con cose basilari. Finita quell'esperienza sono stati un paio di mesi, più o meno, un mese e mezzo, due mesi, non mi ricordo nemmeno. Ho avuto qualche altro lavoro, quindi pezzetti di qui, pezzetti di là, una settimana, due settimane, eccetera, eccetera. Qualcuno, qualche volta da casa, qualche volta da lì. E poi, vabbè, ero in Italia, ho preso un volo per tornare, era, vabbè, non mi ricordo, tipo fine dell'estate, una cosa del genere. E torno in Italia, dopo aver mandato, nel frattempo io continuavo a mandare ovviamente application a destra, ma anche perché non volevo lavorare come freelance, ma volevo lavorare in uno studio. Perché poi è una cosa un po' diversa, cioè, a pro e contro, però lavorare in uno studio da... è un'esperienza diversa. Eh sì. Quindi sono tornato in Italia, appena arrivato in Italia, me lo ricordo come se fosse ora, appena arrivato in Italia, il giorno stesso ricevo una chiamata da Pedro, il mio capo, Pedro Fernandez, e praticamente mi fa un'interview al telefono, cioè, basta a caso, nel senso, ciao come va, finita con che io gli dovevo raccontare a memoria, perché non avevo neanche un computer o niente. Lui mi descriveva l'immagine, ok, credo di sapere che l'immagine è, non sono sicuro, però gliele raccontavo, quindi abbiamo fatto un po' di... di interview al telefono. E poi mi ha detto, ma, senti un po', se eresti interessato a fare un lavoro come freelance per un mese, più o meno, per venirci a dare una mano, perché siamo molto busy, se fossi interessato, a noi abbiamo bisogno appena puoi. Perfetto, cos'è? Sabato? Lunedì sono su... non c'è problema! Quindi, volo di ritorno, con la mia bella di due settimane di ferie prenotate, eccetera... Via! Via, via, ma proprio butta via tutto! Che schifo le pere! Volo di ritorno, torno su, io vivevo a nord di Londra, molto a nord di Londra, perché era... cosa? Circa un'ora da Londra in treno, quindi un bel paio in su, e lo studio di Pedro era sotto Londra. Ah, perfetto! Circa un'ora sotto Londra, quindi non potevo... non potevo fare commuting, non potevo decisamente fare pendolare. E quindi ho cercato in un giorno un posto dove stare, un posto che, mamma mia, pessimo, è un complimento. Però vabbè, mi ci sono trasferito, ho fatto un mese qui, ho fatto due settimane in quella casa, poi mi hanno messo fuori all'improvviso, quindi non per colpa mia, eh, sia chiaro. Ho iniziato a lavorare lì, finito lì, ho avuto un'offerta di contratto per Londra, per un altro studio, che è Cityscape Digital. Ho accettato perché comunque abitavo... ancora abitavo a nord di Londra, quindi ho iniziato a fare il pendolare per Cityscape, ho lavorato da Cityscape per quasi un anno, circa, e poi finito lì proprio non ce la facevo più a fare, sinceramente, non ce la facevo più a fare il pendolare, era veramente faticoso. E quindi ho richiamato Pedro, gli ho detto, perché avevo visto che stavano cercando, e gli ho detto, guarda, io sono pronto a trasferirmi, sono pronto a spostarmi, a fare qualunque cosa, perché voglio lavorare con te, fondamentalmente. A me... io ero in università, lavoravo alle immagini e guardavo i tutorial di Pedro. Eh sì, non sei unico. Essere a lavorare qui è veramente una grandissima soddisfazione, perché poi, cioè, essere a lavorare qui, diventare lead artist, è proprio una soddisfazione incredibile. E niente, adesso sono circa due anni, circa, che lavoro qui, e un bellissimo team, veramente un ambiente fantastico, e niente, quindi sì, questa long story short, non tanto short, però... Ma però vincente, sicuramente. Sì, sì, oddio, speriamo. No, è interessante. E ho guardato da poco il sito di Archina, e non siete tantissimi, siete il giusto? Cioè, per me è il giusto, diciamo, poi dipende... Quanti siete lì adesso? Allora, siamo... Aspetta, che mi devo contare, ci devo contare. Uno, due, tre... Ponta le sedie intorno a te. Quattro, cinque, sei... Ha sei fissi in studio, e un ragazzo che lavora con noi, diciamo, da remoto, però che viene in studio molto spesso, quindi uno o due volte al mese lui torna qui, vive qua vicino, abbastanza vicino. Quindi siamo... facciamo otto, circa otto. È una bella dimensione, giusta... Sì, sì. Familiare, direi. Esatto, 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 perché poi io ho lavorato in studi abbastanza grossi, in realtà, e... Vabbè, Cityscape è un inglese. Esatto. Cioè, Cityscape, io non me lo ricordo come un incubo, però me lo ricordo come un... una cosa molto frammentaria, cioè, hai il dipartimento di modellazione, il dipartimento di fotografia e post-produzione, che poi sono tutti insieme, però sono tutti easy. Sì, sì. È il motivo per cui io sono andata via dallo studio in cui lavoravo prima, perché non mi piaceva questa frammentazione, questa sottorializzazione del lavoro, mi piaceva più l'idea di prendermene cura dall'inizio alla fine. Esatto, esatto. Che poi lo facevo anche, magari riuscivo anche a fare un'immagine dall'inizio alla fine, però era una ogni 20, 30, e poi ogni immagine che inizio quasi sempre la finisco. Poi il bello di essere qua è che, come hai detto te, è proprio un ambiente familiare, cioè, finiamo di lavorare, abbiamo il pub qua sotto, andiamo al pub, poi spesso facciamo cene o da me o da Pedro, o di qui o di lì, quindi è proprio una famiglia, cioè, è veramente proprio una famiglia, quindi, è quello veramente bello, mi piace un sacco, è decisamente uno dei motivi per cui non abbandonerei. Quindi, ho capito, insomma, che il flow è quello di un one man band, nel senso, un tra di arti si occupa di un progetto delle immagini, e che, posso chiederti, qual è il workflow di solito? Sì, certo, poi, allora, in realtà non è proprio, proprio sempre one man band, perché, spesso e volentieri, c'è una persona che coordina, e, varie immagini, quindi, è molto difficile che, un progetto sia un'immagine, sinceramente, è quasi impossibile, quando succede, è una rarità, quindi, sono varie immagini, una persona che coordina, e, due, una, due persone, dipendente da quanto è grosso il progetto, che aiutano, quindi, ovviamente la persona che coordina, lavora sul progetto stesso, però c'è quasi sempre qualcuno che aiuta, quindi qualcuno che gestisce, magari, la parte più di 3D, la parte più di interni, la parte più di post-produzione, mettiamola così, e, ovviamente non è sempre così, ci sono casi particolari, ci sono casi in cui, magari, c'è la persona che coordina, che è l'unica che gestisce le immagini, in questo caso, io sto coordinando un progetto, e sto seguendo tutte le immagini, perché, sia siamo, nel momento stesso in cui c'è un progetto, non vuol dire che non c'è altro, spesso, volentieri c'è un progetto, ma se ne, se ne accavallano alcuni, sì, sì, però dipende, è veramente, la cosa bella è che, non c'è niente di scritto, di stabilito, quindi se dici, ok, io oggi, invece che fare otto ore, ne faccio quattro su tuo progetto, posso aiutare quattro ore in qualcos'altro, è molto, diciamo, ognuno deve essere molto attento alle tempistiche di se stesso, quindi ognuno deve, diciamo, gestirsi il tempo bene, in linea di massima, però sì, diciamo che come lavoro in generale è così, quindi una persona coordina, gestisce, fa le review, controlla i commenti, riceve la roba dal cliente, si interfaccia col cliente, e poi altre persone che solitamente ti aiutano, quindi diciamo quasi sempre così, poi di nuovo dipende da progetto a progetto, magari un progetto da 600 milioni di immagini, una persona coordina e basta, potrebbe essere difficile, dipende sempre un po'. Beh, allora tu diciamo sei nella tana del maestro del matte painting, e però appunto non lo so, in un progetto personale, mi immagino che il matte painting possa essere sviluppato, ma nei vostri progetti commerciali, tra virgolette, riuscite sempre a dedicarvi molto di più alla post-produzione, quindi al matte painting, oppure dipende anche lì dal progetto? Allora, dipende dal progetto, anche lì, ultimamente, non ultimamente, già da un po', il livello di 3D nostro è molto 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 più alto, rispetto a qualche anno fa, diciamo, e la fase di post-produzione per noi è fondamentale, cioè se devo dirti la fase di post-produzione, la fase di modellazione, ma 100 a 0 la fase di post-produzione, se sbaglio una cosa la sistemo in Photoshop, ovviamente non è sempre così, però tipo per gli interni 90% è 3D, 10% è post-produzione, però la fase di post-produzione per noi è veramente essenziale. Per tanti progetti, la cosa è, progetti, come ho detto, tipo interni, oppure high level, abbastanza vicino agli edifici, eccetera, il livello di 3D è comunque molto elevato, però la parte di grading dell'immagine non potremmo neanche volendo rinunciarci, perché è una parte fondamentale. Spesso, volentieri, magari cambiamo texture, cambiamo immagini di, diciamo, elementi come alberi, piante, quello che l'è, in Photoshop, però sì, quello che hai detto te prima, immagini personali, effettivamente per quello è tutto un altro discorso, perché poi in immagini personali la cosa bella è che io ho un metodo di lavoro, Timon ha un altro metodo di lavoro, Pedro ne ha un altro, Dani ne ha un altro, ne abbiamo tutti, tutti siamo diversi e lo studio funziona perché qualcuno ha un, diciamo, una caratteristica molto positiva in qualcosa e qualcun altro in qualcos'altro, quindi spesso, volentieri le due persone lavorano insieme. però uno dei nostri clienti è un cliente particolare, è quello per cui abbiamo fatto le immagini che, l'immagine che è stata selezionata per CG Architect quest'anno, che è New Technic, è uno studio di ingegneria, e loro sono fantastici perché non ti chiedono, fammi un'immagine normale, classica, sai, autunnale, no, spesso e volentieri chiedono, fammi un'immagine classica, autunnale, eccetera, duecento anni nel futuro. Wow. Ok, potrebbe essere difficile, ma si può fare, e è molto, molto, come dire, ti ispira tantissimo perché ti dà tantissime cose a cui pensare, tantissime cose, diciamo, che magari dai per scontato, e la cosa bella è che quasi tutti in studio, quasi, amiamo il concept art, quasi, ma a un livello quasi maniacale, ti direi, cioè, spesso e volentieri maniacale, e quasi, quasi ogni giorno condividiamo, diciamo, un lavoro di qualche artista, oppure qualcosa che abbiamo trovato su ArtStation, che ci colpisce, eccetera, eccetera, e questi lavori per questi ingegneri sono quello. Noi facciamo concept art, e in realtà facciamo concept art anche su immagini classiche dell'edificio, eccetera, eccetera, perché è, diciamo, è il nostro stile, non siamo, non so, non siamo inquadrettati in qualcosa, ci adattiamo. È molto bello, molto, molto bello. Poi, sì, immagini personali, le immagini che ti avevo mandato sono... Che metterò sul sito, quindi non le vedo solo io, le vedete anche voi. Bene, sono, diciamo, le mie interpretazioni su varie cose, quindi una delle immagini, con una delle immagini avevo partecipato alla Mars Competition. Ho visto, sì. Un po' qualche mese fa, e ero stato selezionato, mi è piaciuta, ma l'ho fatta super veloce, non pensavo neanche di partecipare, sinceramente. L'avevo finita. Cosa fai? Non parteci? Non la mandi? Esatto, era pronta. Beh, ma adesso io, vabbè, io sono abituata, ogni studio ha i suoi tempi, diciamo, tipo, io oggi, finita questa chiacchierata, torno a lavorare, perché mi piace talmente tanto. Non so come siete messi voi, avrei di straordinari, ma vorrei sapere quando è che avete il tempo di fare immagini personali, cioè riuscite a farlo all'interno dello studio, a ricavarvi del tempo dentro, oppure proprio uno dice, ok, oggi rimango quattro ore in più, cinque ore in più, e mi faccio le mie cose. Allora, altra cosa che succede spesso in studio, è che quasi tutti cerchiamo di imparare cose nuove, quasi tutti, magari quando scopriamo un tutorial particolare, lo condividiamo, ne parliamo eccetera eccetera, però ognuno è molto attaccato alle proprie immagini personali, cioè non nel senso, non in diciamo, con connotati negativi, nel senso, questa è mia e mi è basta, anzi, questa è mia, fammi una review, dimmi cosa ho sbagliato, cosa faresti diverso, sempre, succede sempre, però siamo molto attaccati a immagini personali perché tutti le facciamo, tutti, tutti quanti, facciamo un'immagine personale spesso e volentieri, e beh, oddio, sì, quasi tutti, e in linea di massima le facciamo la mattina, o, cioè, io ti parlo per me, io, io, quasi sempre arrivo prima, arrivo, tra un'ora e mezz'ora prima, quasi tutti i giorni, e mi sveglio con mia moglie che si sveglia molto prima di quanto io non dovrei svegliarmi, mi sveglio con lei, vengo in studio, e in quell'ora mi faccio immagini, quasi sempre, ma sono, non le finisco sempre, ma è bello perché ti dà tantissimo sfogo artistico, perché magari sei frustrato con i commenti del cliente, e dici, no, questo non ce lo posso fare, però se ti prendi, ma non voglio dire un'ora, perché un'ora è effettivamente un sacco, però ti prendi dieci minuti, un quarto d'ora, fai un modello di qualche cosina, e poi il giorno dopo fai un modello di qualche cos'altro, eccetera, eccetera, poi alla fine in, non lo so, non ti dico un mese, però quello che è, hai un'immagine, e ti aiuta veramente un sacco a, diciamo, separarti dal mondo lavorativo, al mondo delle immagini personali, e sono un grandissimo fan di spronarsi a fare immagini personali, perché se non l'avessi fatto non sarei qui, e senza ombra di dubbio, se non l'avessi fatto non sarei qui, però ti aiuta, ti aiuta anche come artista, in un anno e mezzo di questo, io sono migliorato esponenzialmente, non solo di immagini che mi faccio la mattina, sia chiaro, però è qualcosa che ti aiuta un sacco a migliorarti, se non è la mattina, magari in pausa pranzo, oppure la sera, non sono un fan della pausa pranzo, perché con otto ore, se ti fai anche l'ora di mezzo di pausa pranzo, attaccata al computer, e poi mi raccolgono con un cucchiaino, però... Io l'ho fatto per anni fa schifo, ero orribile, proprio come umore, ecco, è proprio... no, beh, adesso anzi, ma ti dirò, anzi, vi consiglio un balcane per l'ufficio, per noi è stata una mano da cielo lavorando da casa, è un'ottima scusa per stare fuori, e prendere un po' di aria, perché veramente, già le occhiaie, quella faccia gialla che ti viene facendo questo lavoro, va combattuta in qualche modo. No, no, capisco benissimo, anche io guarda, da Cityscape, dove ero prima, non potendo arrivare prima, perché già mi svegliavo alle 6, facevo due ore di commuting, arrivavo in studio, poi l'idea di stare attaccato proprio tutto il giorno al computer, non mi faceva impazzire, però prima non lo potevo fare, dopo era impensabile, quindi io stavo attaccato al computer, praticamente quasi tutte le pause pranzo, in nove mesi, due occhiai, due borse sotto gli occhi, ci avevo che... Ma ti sto un po' distante dalla telecamera, per non farti vedere... Guardatemi così... Tengo gli occhiali per quello principalmente, devo imparare a truccarmi meglio forse, Le femmine almeno possono... Le femmine... Le ragazze almeno possono truccarsi un po'. Il problema è che io non lo so fare. Potrei provarci con la mia Wacom, vediamo cosa succede. Non funziona molto. Visto che parliamo di immagini personali, sarei curiosa di chiederti, come nasce la tua immagine? Qual è lo spunto? Parti da uno sketch, oppure cominci a fare quello che ti viene sul momento? Dipende. Allora, tipo, l'immagine quella egiziana, diciamo, quella idronima egiziana, in realtà quella io ho iniziato a aggiungere, a buttare roba a caso dentro, perché... Uh, bello questo modello! Buttalo dentro! Uh, bello questo! Mettilo lì! Poi in realtà, vabbè, dal grosso casino che c'era, ho iniziato a levare cose e ho iniziato a compormi la mia immagine, però spesso e volentieri è un'idea che ho, e quindi magari, non lo so, leggendo un libro o guardando un film, molte volte guardando i film, sinceramente, e guardando un film, uh, quello potrei farlo in una mia immagine reinterpretata. Poi avevo anche iniziato tempo fa una, diciamo, una catena di immagini e basate sui droni, quindi su robot, futuristi, cose del genere, ambientate su, diciamo, landscape assolutamente normali o senza stravolgere nulla di particolare. poi è un po', si è un po' accantonata, perché ho, il mio problema è, ho mille e una idea e poi non ho tempo per farle. Le vorrei fare, le inizio, infatti la mia cartella di immagini personali è tipo una lista infinita, ma non le finisco mai. Cioè, le poche volte che le finisco, uh, bello, l'ho finita, sono molto fiero di me e il giorno dopo ho già 18 milioni di idee su altre cose. Però è molto bello, in realtà, avere tante idee, perché poi magari le metti in pratica e dici, no, questo non funziona, no, questo neanche funziona e non ti deprimi più di tanto perché hai un sacco di, di, diciamo, un sacco di idee. Di backup. Sì, esatto, hai sempre un backup plan. Tante volte, in realtà, è magari qualcosa che hai su ArtStation e dici, uh, quella è fichissima, vorrei provare a farlo, però non so come farlo e quindi ti metti lì i testi, i provi, i chiedi ai ragazzi, magari qualcuno lo sa, eccetera, eccetera, o magari qualcuno ti manda qualcosa. Timon è molto, molto bravo a disegnare, è praticamente un illustratore e ogni tanto mi fa vedere, diciamo, i suoi disegni e per quanto siamo diversi, lui interpreta le cose in una maniera, io in una maniera completamente diversa e è bello confrontarsi perché dici, ok, grande, non tutti pensiamo alla stessa cosa, quindi il mondo è bello perché è vario, però sì, il più delle volte è film, non ti direi canzoni perché sarei troppo poetico, canzoni no, non sono così fantasioso. Eh vabbè, le immagini stimolano un cervello in maniera diversa. Sì, decisamente, decisamente, sì, però... e ti dà di chi di più, io sono curiosa, Matte Painting perché è una cosa che mi affascina e poi ne parlo sempre con Andrea perché lui sogna, Andrea è mio marito, e lui sogna di fare dei corsi, lui ama il Matte Painting e quindi mi incuriosisce perché so che da voi, insomma, è una delle basi fondamentali. Sì, allora, diciamo, non è quando la gente applica qui pensa che noi facciamo solo quello, pensa che noi siamo dei mostri di Photoshop e facciamo tutte le nostre immagini su Photoshop. In realtà no, in realtà noi facciamo tanto su Photoshop, però non è una prerogativa, è successo spesso e volentieri che magari fai un'immagine solo in 3D perché è più veloce o quello del genere. Matte Painting noi lo usiamo tanto per, diciamo, più cose di concept art, più viste aeree, quindi ovviamente le viste aeree, tutti gli sfondi, i cieli, le illuminazioni, trasformare da giorno a notte lo facciamo, lo facciamo spesso, però non è essenziale e soprattutto in studio abbiamo vari livelli di capacità. Come ti dicevo prima, non è detto che tutti sappiano usare Photoshop bene, anzi, in studio sì, magari abbiamo qualcuno un po' più esperto, qualcuno un po' meno. Poi, d'altro canto, io dico, questo lo so fare bene in Photoshop, mi giro, schermo di Pedro, tutto ha finito, cinque minuti, mi prendi per i fondelli, cioè non è possibile, dai! E io pensavo di essere bravo, no, decisamente no, però sì, è diciamo, una grande, per noi è un grande aiuto perché ti risolva un sacco di problemi e un sacco di cose e poi in linea di massima è più veloce, in linea di massima. Ne parlavo giusto oggi con un mio collega e mi diceva che palle aspettare i render, perché lui lavora quasi solo su Photoshop, che palle aspettare i render, che stress aprire il file che pesa 50 milioni di giga, ci mette 10 minuti da aprirsi. Lo capisco, benissimo, perché ogni tanto sono frustrato anch'io e dico, vabbè, faccio la stessa cosa, in Photoshop ci metto due minuti, però diciamo, matte painting è molto bello, ma su cose un po' più, diciamo, lasche, non troppo dettagliate, quindi per tutte le atmosfere perfetto, per tutti gli sfondi, cose, benissimo, però è difficile che magari per tutti gli elementi di una casa noi usiamo Photoshop, anzi, sinceramente no, aggiungiamo texture, overlay, cose, le aggiungiamo, ma non esclusivamente, usiamo tanto 3D in realtà, quindi, e di nuovo, ognuno interpreta le immagini in maniera diversa, quindi non è detto che io e te, diciamo, faremo la stessa immagine nella stessa maniera e spesso usiamo Photoshop anche come mezzo per fare, diciamo, sketch veloci sull'immagine, quindi avevamo fatto qualche tutorial con Pedro sui images review, quindi poi quando ci mandava le immagini noi le, facciamo delle, diciamo, delle review delle immagini e lì vedi, in realtà, è parte di quello che facciamo in studio, quindi, benissimo, questa immagine funziona, mettiamola, splutti su Photoshop, riuniamoci e facciamo su Photoshop ognuno magari una prova su che cosa potrebbe funzionare, ogni tanto facciamo anche quello, quindi mood sketch, tanti sketch, sinceramente tanti sketch e poi sì, tutte le cose di sfondi e cose del genere sono sempre Photoshop, poi di nuovo, dipende da immagine e immagine, però sì, diciamo che è quello. Beh, io sono molto affezionata al 3D, devo dire, e quindi mi affascina questo mondo ma lo guardo un po' da distante. Io di solito vado con camera raw e se proprio, 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 faccio un po' di, no, faccio un po' di post-produzione, però io, ma perché io mi dedico principalmente agli interni, poi, ah ok, qualche esterno ci scappa ogni tanto, ma per me è un po' una sofferenza, le sue, le sue, le sue, mamma mia, ognuna le sue, per me è una sofferenza all'interno, beh, no, penso che sto facendo un master in interno, sono talmente appassionata, che io il venerdì e il sabato mi faccio otto ore di lezione dopo una settimana da quaranta in quattro giorni, vediamo. Bene. Sì, si chiama masochismo, credo, ma non sono sicura. Vabbè, io faccio immagini nella mia ora prima, tu vai. Vedi? Io vado a scuola, vedi? Vado a scuola. Io vado a scuola. Matteo, io ti devo fare l'ultima domanda di Vito, che è quella se hai consigli per chi vuole avvicinarsi a questo mondo e poi ti devo lentamente salutare. Però tu rispondi con tutta calma a questa domanda e dopo ci salutiamo. Allora, in realtà, come dicevo prima, secondo me l'unico consiglio che si può dare è fare immagini e sbatterci la testa tanto, ma tanto, tutti i giorni, fare un'immagine al giorno. C'è Beeple, non so se qualcuno c'è, ecco, questo Daily Krab. Un mostro, vabbè. Vabbè, ma non dico di fare quel genere di immagini, perché poi qualcosa, ma magari anche, non lo so, modelli qualcosa di piccolo oppure lavori un po' su Photoshop, però è decisamente qualcosa che è impagabile, è tempo che ci dedichi perché ti ci devi dedicare, però che poi ti aiuta tantissimo sul lungo percorso senza dubbio. E poi, niente, guardare tantissime reference, copiare, perché io avevo iniziato prendendo una foto e compiandola, che è uguale, cercare di farla lo più simile possibile. Niente, copiare tante reference, chiedere, chiedere tantissimi artisti in giro, io spesso e volentieri stalkeravo la gente, poi gli scrivevo le mail, scusami, mi puoi dare qualche consiglio? Qualcuno mi rispondeva, la maggior parte no, e dicevo, solo caga sto qui, però quelli che ti consigliavano, in realtà, la maggior parte della gente diceva, mettiti lì, picchiaci la testa e fallo. Non è che cosa che posso dire. Per esperienza, per esperienza. Ci siamo passati, sì, no, è l'unica, l'esperienza insegna e trovare un bel ambiente in cui crescere è probabilmente anche un'altra ottima ospione. Cominciare da soli, secondo me, non è auspicabile. No, no, in realtà è molto faticoso, è veramente, anche perché se puoi stare da solo non hai nessuno a cui chiedere consiglio, magari a fianco a te lo sa o cose del genere, però è decisamente molto più faticoso. Quindi, ambiente amichevole, aiuto, decisamente meglio. Va bene Matteo, io ti ringrazio tantissimo. Grazie a te. Ti ringrazio a chi ci ha ascoltati e di sicuro avrò trovato molti spunti interessanti. Io metterò le tue immagini così possono andare a vedere quello di cui abbiamo parlato. Certo, certo. Salutami Pedro. Lo farò, lo farò. Domani lo saluto. Grazie ancora. Tu rimai lì naturalmente e grazie a tutti. Grazie mille. Ciao, 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 ciao,